Il teschio di Laurenzia è tornato alla luce. Si parla dei resti della donna probabilmente uccisa dalla peste nel 1961 ritrovata lo scorso 10 dicembre nella grave degli appestati di Fasano. A far parte di quella spedizione c'era anche il consigliere regionale Fabiano Amati che a distanza di un mese continua ad aggiornarci sulla vicenda. Sono ancora molti gli interrogativi su una leggenda che dovrà resistere alle analisi scientifiche. Il teschio di Laurenzia sarà interrogato in laboratorio e noi spiegamati aspettiamo con ansia che gli antichi resti mortali possano svelarci tutti i segreti della sua vita e di quei tempi così da depositarli nel grande bagaglio della nostra storia comune. La leggenda appunto, secondo la tradizione, si è sempre raccontato che nella grotta furono seppelliti i morti della peste che colpì Fasano e i comuni limitrofi nel 1690-1691. Ora gli studi sui resti di Laurenzia potranno confermare o meno quel racconto capace di resistere ai secoli dicendoci di più su Fasano e sulla sua storia.